Buonasera, continua il nostro percorso sulle pagine del Vangelo e questa sera rifletteremo su una pagina importante, più che altro su un tema importante. È tratto dal Vangelo di Matteo, dal discorso della montagna, i capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo e il tema è quello del giudizio. Ascoltiamo la parola. In quel tempo Gesù disse non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello? Lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Il Signore è appena finito di parlare del discorso della provvidenza e introduce questo tema delicatissimo. Le parole hanno una caratteristica si potrebbe dire iperbolica, è un po' lo stile di Gesù quando parla per paradossi, proprio a delle sue sentenze, quando specialmente parla a livello sapienziale come in questo discorso. Sto pensando ai nostri giorni drammatici a ciò che stiamo vivendo con il terrorismo che colpisce in varie parti della terra e sto pensando a quanto difficilmente ci troviamo anche nelle nostre comunità cristiane a volte divisi su questo proprio, dando giudizi che a volte non sono propri. L'insegnamento di Gesù è scomodo come il brano evangelico di oggi perché ci chiede di non giudicare o almeno di giudicare in maniera sapienziale. Infatti se noi prendiamo alla lettera questo passo di Vangelo dovremo condannare o impedire l'attività più caratteristica della persona umana che è il giudizio perché nel pensiero, nella mente dell'uomo il giudizio è una cosa naturale, si giudicano le situazioni, le si valutano. La conoscenza umana del resto passa attraverso tre fasi, l'apprensione dei dati, il tentativo di comprenderli e il giudizio che poi noi elaboriamo su quello che sono i dati visti, presi e compresi. L'uomo è vero quando dà giudizi veri, dice Gesù. E l'uomo è falso quando esprime giudizi falsi, questo è il senso. Veritas in giudicio, diceva Santo Maso d'Aquino. La verità, importantissima. Se esaminiamo i discorsi che le persone fanno, nell'ambito a volte della famiglia, della società, della politica, della Chiesa, ci accorgiamo che spesso i nostri giudizi sono sommari, affrettati e superficiali. E allora bisogna stare attenti. Questo è la propensione giusta. Purtroppo siamo spesso duri con gli altri e non siamo onesti e autentici con noi stessi. siamo disfattisti, scettici e nel linguaggio a volte usiamo, nella valutazione delle persone, delle situazioni, un linguaggio un po' malato. Forme malate di giudizio. Senza l'umiltà che cerca sempre il senso dell'oggettività. In questo senso Gesù ci dice di togliere la trave dall'occhio e parla della pagliuzza, questa sproporzione, questa provocazione nei nostri confronti. Il nostro giudizio a volte è troppo definitivo e non ci dobbiamo invece dimenticare che niente è irrecuperabile nell'ottica di Dio. Che si può, come dire, recuperare situazioni e persone, che le cose cambiano, le situazioni cambiano e non siamo noi i detentori della verità. Gesù ci insegna un giudizio aperto alla speranza e non chiuso e negativo in tutti gli ambiti della vita, dei nostri ambienti dove viviamo, nelle relazioni familiari. Essere attenti e sapienti, non nel non dare giudizi, ma nel usare un metro di giudizio serio e intelligente, che è quella sapienza profonda che ci viene da queste pagine. Ecco perché il Signore dice non giudicare, usa la forma di giudizio sapiente, sia capace di comprendere che l'uomo è in evoluzione. Per questo tante situazioni che a volte siamo portati a chiudere o a condannare, miracolosamente e misteriosamente a volte si evolvono. Alla prossima domenica. Arrivederci.